Come granello di senape, un uomo ha piantato, un giorno crescerà e ti verrà albero magnifico nel roccolo del mio signor. Come granello di senape, il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà albero magnifico nel forno del mio signor. Se lo dato Gesù Cristo, ascoltiamo cari fratelli il Vangelo secondo Matteo nella seconda domenica di Quaresima. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e ricondusse gli sparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco a parvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù, Signore è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E gli stava allora parlando quando una nube luminosa ti coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva, Questi è il figlio mio, l'amato, e lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono pressi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte Gesù ordinò loro. Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Leggendo e rileggendo questa pagina del Vangelo della trasfigurazione, mi viene da pensare come la primavera si prepara nell'inferno. Ed eccoci nel brano della trasfigurazione. La vita di Gesù è stato un cammino, se ci riflettiamo, verso Gerusalemme, dove lì l'aspettava la croce. E ciò vale anche per noi e non ci dobbiamo scoraggiare, cari fratelli. Gesù vuole preparare i discepoli a uscire fuori vincitori. È il messaggio del Vangelo di questa domenica. Seguiamo per questo Gesù. Gesù porta questi tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, nella solitudine di un monte. Li lascia fare ad ammirare. Ma lì Gesù lascia sprigionare quello che direi è la sua divinità, che è il futuro del mondo, il futuro dell'uomo. Perché Gesù fa questo? Ecco alcuni messaggi da cogliere noi. Per invitare soprattutto gli apostoli a fidarsi di Dio. Per questo Gesù si trasfigura. A tutti viene chiesto un atto di abbandono davanti a Dio. Quella che noi chiamiamo la fede. Fu chiesto ad Abramo quanto lasciò la sua terra. E poi ci ricordiamo quando si mise in viaggio. Viene chiesto anche a noi che siamo in viaggio verso l'eternità. Noi spesso pretendiamo di capire e di sapere tutto. arrivando anche a fare a meno di Dio. Ma abbiamo bisogno di umiltà. C'è uno che supera tutti. Si chiama Dio. Davanti a lui l'orgoglio è una follia. Ecco il primo messaggio che ci viene dalla trasfigurazione. Siamo invitati a fidarci di Dio. Secondo, contemporaneamente Gesù ci ricorda un'altra verità. Lui va verso la croce. Fa intendere che Dio resta Dio anche quando cammina nella pazienza. Quando cammina nella povertà. Quando cammina nella sofferenza. Dio non sarà mai uno sconfitto. E per noi l'unico modo di vincere è stare con Lui. Ci saranno prove, tribolazioni, malattie, morte. Ma chi crede in Dio camminerà in mezzo alle prove con coraggio e fiducia. Perché? Perché Dio è sempre il vincitore. C'è un terzo messaggio che ci viene da questo brano evangelico della trasfigurazione. Un richiamo alla vita eterna. La vita, cari fratelli, non finisce qua giù. Vediamo come tanta gente si affanna, si scoraggia, combatte, ma non ha capito che l'oggi decide il domani del cielo. La vita terrena decide la vita eterna. Ci dobbiamo preparare tutti per un'altra vita. se non comprendiamo questo, la vita si trasforma in un inverno senza bisogno di attenderlo. Gli apostoli videro il paradiso, ricordiamocelo, l'hanno visto per un momento e restarono incantati di quella scena. Signore, dice Pietro, per noi è bello qui. Se tu vuoi costruiamo tre tente, tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. La gioia vera la può dare soltanto Dio. Anche noi abbiamo fatto qualche volta questa esperienza. La gioia del bene compiuto è una gioia che possiamo dire paradisiaca. È la gioia del paradiso. La gioia di fare sorridere un malato è gioia del paradiso. La gioia che si prova asciugando una lacrima è gioia di paradiso. Quanto è importante non perdere di vista l'eternità. Ecco perché questo è il figlio mio, ci dice il padre. Ricordatelo, ascoltatelo, il mio figlio prediletto. Di lui mi sono compiaciuto, ci dice il padre. A noi resta ascoltare. È ciò che gli orgogliosi non sanno fare. Ascoltare significa accogliere un altro nel proprio cuore e nella propria vita. Accogliere Dio e lasciargli il timone della nostra vita. mettendoci in cammino lasciandoci conturre la via da lui. Terminata la la visione Gesù chiede poi di scendere. Di scendere nella vita di sempre, nella nostra vita quotidiana che è la vita che noi viviamo fatta di generosità ma anche di egoismi fatta di umiltà di perdono di verità anche di menzogna. Ecco perché noi chiediamo di volerci sempre fidare di lui. La fede in lui è seguire la strada di Dio. Gesù diventa così cari fratelli una proposta una luce per la vita di oggi. Siamo dato Gesù Cristo. nel tempio del mio Signor come un chicco di frumento qualcuno seminato al sole crescerà e ti verrà germoglio munifico nella terra del mio Signor segnale febbra d'amore e fuori di me parla la tua voce e vedo solo te manda con coraggio nel mondo le ancelle della mia misericordia nel mondo senza essere del mondo granello vivo e vero dell'amore e vedo